buongiorno a tutte cari amiche cari amici vi do il benvenuto nel canale di vera dal mare oggi faremo un breve tutorial di questo punto magnifico che ho chiamato punto rombi traforato perché forma dei rombi guardate che bello e davanti sembra che formi un fiorellino addirittura il di dietro non è uguale al davanti e quindi non è un punto reversibile ed è un punto adattissimo secondo me sia a capi primaverili perché potete farci una canotta un maglioncino un cardigan che addirittura delle stole perché è molto molto bello molto elegante e secondo me anche delle copertine da neonato allora il punto è abbastanza semplice ed è per questo che ve lo propongo e munitevi di filato e di ago che andiamo subito al tutorial prima di partire con il tutorial chi non si fosse ancora iscritto al mio canale mi farebbe piacere se lo facesse e se il tutorial vi piace non dimenticatevi di lasciarmi un like andiamo al tutorial allora il nostro punto a rombi traforati richiede che siano montate un numero di maglie multiplo di 3 quindi 3 più 3 più 3 più 3 più 3 fino a quando ne avrete bisogno più le due maglie di bordo di vivagno che possono essere due o quattro dipende da da come decidete di fare il vivagno la particolarità di questo punto è e io ho fatto apposta così il mio campioncino e che alla base tende un pochino ad arricciarsi quindi ho finito il lavoro poi gli date una stiratina oppure potete fare un bordo all'inizio fatto di 2 4 6 8 giri di maglia diritto che gli danno un attimino di pesantezza e stendono di più il punto bene allora io per il mio campioncino vedete ho fatto due file di maglia diritto e ho montato 11 punti 3 più 3 più 3 più 2 di bordo quindi queste due file non c'entrano nulla con la spiegazione che andremo a fare adesso il punto si snoda su 4 giri finito il quarto ferro si ricomincia dal primo giro primo ferro maglia di vivagno dopodiché la sequenza sarà la seguente 123 maglie al diritto prendo la prima del gruppo dei tre e la cavallo sulle altre due e faccio un gettato per recuperare la maglia accavallata e di nuovo 1 2 e 3 prendo la prima delle tre maglie che ho lavorato a diritto e la cavallo magari tengo la punta del ferro di modo che non mi cadano le altre maglie sulle altre due e faccio il gettato non dimenticatevi gettati perché altrimenti poi vi mancheranno i punti 1 2 e 3 prendo la prima delle tre maglie da sotto vedete e la tiro fuori e faccio un gettato poi c'è il punto di bordo diritto il secondo ferro è un ferro invece che va lavorato tutto al rovescio quindi a parte le maglie di divagno che abbiamo deciso di farle al diritto lavoreremo il secondo ferro tutto al rovescio semplicemente a rovescio ecco qua secondo ferro ferro rovescio semplicissimo terzo giro maglia di divagno dopodiché lavorerò un diritto all'inizio e poi dopo questo ci sarà quello che ripeterò nell'asterisco cioè la mia sequenza che sarà formata da un gettato e tre diritti 1 2 e 3 il primo dei tre diritti lo cavallo sugli altri due lo prende da sotto tengo il ferro e lo tiro fuori un gettato e vedete che però adesso avanzo soltanto due punti perché questo è di divagno questi due punti alla fine del ferro del terzo giro andranno lavorati a diritto 1 e 2 e poi poi il mio punto di bordo a diritto quarto e ultimo giro a rovescio quindi la mia maglia di divagno a diritto e tutto il resto a rovescio allora il secondo e il quarto ferro sono semplicemente a rovescio il primo e il terzo hanno la particolarità che bisogna cavallare poi fare i gettati però se seguite la sequenza non è poi così difficile piano piano dopo averlo fatto due tre volte vedrete che vi viene prima provate con un campioncino ecco qua e questo è il mio lavoro andando avanti si formeranno vedete che già si vedono i nostri rombini guardate che belli qui è fatto con un una lana più sottile nel campioncino non solo lavorato con una lana più spessa ma ho lavorato anche molto molto largo guardate che bello di modo da far vedere bene il lavoro allora volevo farvi vedere una cosa ho realizzato queste piccole campanelle per l'avvicinarsi della festa della festività di pasqua le ho fatte con l'uncinetto so che magari tante di voi non seguono l'uncinetto anche se io ho iniziato a fare un piccolo videocorso sull'uncinetto e trovate poi in descrizione tutte le lezioni precedenti però sono molto carine guardate che belle e sono anche molto semplici io penserei di proporvele mercoledì perché ognuna di queste richiede circa un quarto d'ora di lavoro al massimo 20 minuti quindi sarete in tempo se vorrete farle per la prossima domenica allora io le metto da parte riprendiamo di nuovo il nostro bel campione e con questa inquadratura ci salutiamo ci diamo appuntamento al nostro prossimo tutorial vi abbraccio tutti ciao dalla vostra vera ciao ciao